Questa guerra può finire solo in un modo. Vince chi sopravvive. 6 aprile 1917. Due caporali britannici ricevono l'ordine di attraversare le linee nemiche per consegnare un messaggio che potrebbe salvare la vita di 1.600 uomini. Il fratello di uno di loro è tra cui 1.600 soldati. Sam Mendes conduce una sfida ad alto rischio, ma il regista sormonta gli ostacoli e lancia due giovani soldati in una corsa contro il tempo. La macchina da presa resta ostinatamente incollata ai due militari. Lo spettatore diventa il terzo compagno. Scruta ogni pericolo, abbassa la guardia. Vive 1917 come un'esperienza di immersione totale. La sceneggiatura è trattata con prodezza stilistica. Un impressionante tour de force tecnico che accelera le emozioni catturando senza sconti il calvario quotidiano vissuto al fronte. 1917 è un film contro la guerra, sempre ad altezza d'uomo, sempre focalizzato sulle emozioni. giusta, pura, cruda.